Tutto pronto per la nuova stagione al Teatro Aldo Nicolai di Calamonaci. A curare la rassegna quest'anno è Tuttoni Cosia che oltre ai dieci appuntamenti teatrali ha inserito nel cartellone anche il Festival Nazionale dedicato a Salvorrandone. Abbiamo diviso questo cartellone che è composto da dieci opere teatrali. Cinque parteciperanno al concorso Festival Nazionale del Teatro Salvorrandone. Le altre cinque invece sono per lo più delle compagnie nostre siciliane. Ce n'è anche una di Sciacca, Teatro Oltre. E poi c'è una novità assoluta che è rappresentata dal fatto che faremo una produzione con il Teatro Aldo Nicolai. È importante questo che venga fuori una produzione del Teatro stesso. Noi inizieremo con la prima rappresentazione. Il 26 di novembre verrà il Piccolo Teatro di Imola a rappresentare un'opera proprio di Aldo Nicolai a cui è intestato il Teatro. Ed è Killer, una delle opere più simpatiche di Aldo Nicolai. La rassegna verrà presentata la prossima settimana. Che cosa possiamo anticipare? Intanto per cominciare a interessare il pubblico. Viene una compagnia di Verona che presenterà un testo simpaticissimo che è Fulmonti. Tratto dal film che ha vinto anche un Oscar. Poi ci saranno due compagnie siciliane e una compagnia che viene da Roma che presenterà la donna che ha detto no dedicato a Franca Viola. Poi avremo una serata finale. Il festival si chiuderà il 31 con la produzione nostra e l'8 di aprile chiuderemo con la serata finale, con l'attribuzione dei premi per il festival Salvo Randone. La stagione teatrale rappresenta ormai da ben 8 anni un appuntamento importante per il comune di Calamonaci. Un investimento sulla cultura, quello fatto dall'amministrazione guidata da Vincenzo Inga. Da quanto sono sintaco di Calamonaci ho sempre attenzionato con le dovute misure e cautele il teatro di Calamonaci. Noi abbiamo questo piccolo teatro e l'abbiamo realizzato nel 1990 grazie all'aiuto di un finanziamento regionale. Perché a Calamonaci, da quando io ero bambino, c'è stata sempre la cultura del teatro. Quindi chi più, chi meno, chi va ad amministrare il comune di Calamonaci, continua sempre questa tradizione. Noi quest'anno è l'ottava rassegna teatrale. Questo sta a indicare che dal 2008, anno in cui sono stato eletto, noi come prima cosa abbiamo fatto la prima rassegna teatrale. Quest'anno abbiamo chiamato a dirigerla la persona di Totonicosia, che è una persona che per quanto riguarda il teatro è una delle massime figure della zona. Spero sempre, e lo dico, che sarà una bella stagione per tutti.